Ciao amici, ciao amiche, anche oggi ci fermiamo alcuni minuti sulla lettera pastorale Brindiamo, tenendo presente il Natale, come dicevamo già la volta scorsa siamo ormai alle soglie del Natale, festa che ci ricorda soprattutto la presenza di Dio nella nostra storia concreta, cioè nella nostra vita quotidiana e concreta. Ogni anno del tempo dedicato a ricordarci, ehi, il Signore è davvero presente, non lo vedi? Il Signore è davvero presente, è accanto a te. Partiamo da una bella espressione, un'espressione interessante di un filosofo importante, un importante filosofo di questi ultimi anni, di questi ultimi decenni, che si chiama Gadamer, il quale diceva, indugiare fa vedere il permanente nel fuggevole. Parole altisonanti da filosofo, ma belle. Indugiare fa vedere il permanente nel fuggevole. Tutto ciò che è intorno a noi è fuggevole. Passa, passa a volte anche in fretta, scompare addirittura sovente. È tutto molto fuggevole. Se tu ti fermi e guardi in profondità, ci vedi qualcosa che permane, cioè c'è una ricchezza lì dentro, che permane, che resta, che dice la densità di ogni cosa. Ciò che sta attorno, compresi noi, comprese le persone, non sono cose semplicemente fuggevoli. Hanno dentro una ricchezza e tramite quella ricchezza, se ti fermi a guardarla, puoi intuire la presenza di Dio. La presenza di Dio non è astraendosi che la si coglie, non è chiudendo gli occhi semplicemente, immaginandoselo, ma andando dentro le cose, dentro la profondità delle cose. Altrimenti si resta semplicemente all'apparenza e tutto è così fuggevole. Visto che siamo nel periodo natalizio, potrebbe essere bella l'immagine di uno che è in una stanza, ha ricevuto tanti pacchi dono, tanti pacchi regalo, ma non li apre e quindi vede solo dei pacchi di carta. Certo, tanti pacchi di carta, magari anche colorati, anche carini, ma sono dei pacchi di carta. Diverso è se ti fermi e ne apri uno e guardi cosa c'è dentro. Magari c'è una camicia, magari c'è un disco, magari c'è una bottiglia di vino e ti rendi conto che non erano solo dei pacchi di carta uguali a tanti altri. Avevano una cosa particolare. Bene, questo tempo è anche un tempo per fermarsi e guardare dentro, perché facendo questo se ne scopre la densità e si sente la densità di una presenza, si può intuire la densità di una presenza. E allora nella lettera consigliavo la lettura del Salmo 139, che è una meraviglia, è proprio una meraviglia. Vorrei leggerlo almeno in parte con voi, perché potrebbe essere proprio un Salmo da leggere in queste sere, da qui a Natale, magari anche nel tempo natalizio. Direi quasi un Salmo natalizio, un Salmo della presenza. E dice così, Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, ti sono note tutte le mie vie. Che meraviglia! Il Salmista dice, Io so che tu sei accanto a me e mi conosci, mi conosci, sai tutto di me. Tu sai quando sono seduto e quando sono in piedi, tu sai quando sono in fase di riposo o quando sono al lavoro, conosci i miei pensieri e conosci le mie azioni, sai tutto di me. Sapete, una frase che io amo molto dice così, L'amico è uno che sa tutto di te e ti ama ancora. È vero. L'amico è uno che sa tutto di te, cioè sa le cose belle, sa le virtù, sa anche i tuoi difetti, le tue povertà, ma ti ama così. Ecco, Dio ci conosce, conosce tutto, i pensieri, le parole, le azioni, quando siamo in casa, quando siamo fuori, sa tutto, ma ci ama così. Che bello! Tutto l'anno, ma in particolare nel tempo di Natale, rileggere ogni tanto questi versi, questi versetti, è immaginare, anzi sentire, credere che il Signore sa tutto di noi e ci ama così. E continua, Alle spalle di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Pensate che meraviglia. Natale non vuol solo dire che c'è un bimbetto che nasce, ma c'è un Dio che viene qui, alle spalle di fronte ci circonda, cioè ci tiene in un abbraccio e pone la sua mano su di noi, quasi come custode. Bellissimo! E poi c'è tutto un passaggio che descrive proprio la presenza costante di Dio. Partendo da questa domanda, dove andare lontano dal tuo spirito? Dice, ma c'è un posto dove io potrei andare e sentirmi veramente lontano da te? Cioè dove tu non ci sei? Ma c'è un posto da qualche parte? Non c'è, sei proprio dappertutto. Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Scendo negli inferi, se vado giù, 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 fino al centro della terra, là tu sei. Se prendo le ali dell'aurora, cioè se vado a est, per abitare all'estremità del mare, vado a ovest, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se vado su, se vado giù, se vado a est, se vado a ovest, anche là tu sei lì. Se mi avvolgi, mi abbracci, mi tiene la mano sulla spalla, in qualunque luogo. Se dico, almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte, nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Dice, beh, allora sai che faccio? Vado dentro il buio, dentro la notte, vado in un luogo buio, 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 dove è nero, 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 e così tu non mi vedi. Per lui le tenebre sono come luce e anche nelle tenebre il Signore è presente. Credo che sia bellissimo questo Salmo, perché poi va addirittura all'origine. Dice, ma questo oggi? Oggi e ieri? Oggi, ieri, l'altro giorno? Da quanti giorni è vero questo? Dice, da sempre. Prima ancora che nascessi era già vero. Sentite cosa dice, beh, è una meraviglia da ricordarcela questa. Sei tu che hai creato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Sei tu che mi hai ricamato, pensate che bello, dice proprio mi hai ricamato nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Io ti ringrazio perché sei tu che mi hai costruito, ricamato nel seno di mia madre e mi hai fatto come un prodigio, mi hai fatto come una meraviglia stupenda. Che bello! La sua è una presenza costante da sempre, per sempre, che lavora per fare di noi un prodigio, un'opera d'arte. Questo è il Dio che nasce per noi. E questo è il bell'annuncio di Natale. Il Signore viene e resta qui per sempre. Alle spalle di fronte ti circonda, diceva un'altra volta ti precede nel quotidiano e perché Lui è la tua origine. E allora vorrei concludere semplicemente leggendo un augurio che può anche essere un buon augurio natalizio già che ho scritto nella lettera. Dice così «Ho vissuto una vita dentro questa fede e per annunciare questa fede. Per me questa fede è l'ossigeno della mia esistenza. È una perla preziosa. Mi ha sostenuto e salvato la vita. Come vorrei che brillasse anche in te. Come vorrei che la sentissi come una vera fortuna. Come vorrei che la nostra Chiesa riuscisse ancora a far brillare il Vangelo, la bella notizia. Come vorrei che scoprissi la bellezza di sapere che non siamo persi nel nulla. C'è un Dio amorevole e forte che ci precede da sempre e ci guiderà per sempre. Più forte del caos, più forte del nulla. Come vorrei che scoprissi a poco a poco il senso dei giorni, il sapore dell'esistenza. Come vorrei che scoprissi le orme di Dio nei fiori, nei laghi, negli alberi, nelle montagne, nei volti per riuscire a brindare sempre. E allora auguri di cuore in questo cammino. Ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.